In Sud America il condono fiscale si fa dopo il golpe, in Italia prima delle elezioni, ma invertendo i fattori il prodotto non cambia. Il condono fiscale è comunque una forma di prelievo fuori legge. Non sono favorevole ad un ampliamento del meccanismo di perdono fiscale che abbiamo legato soltanto all'emersione del sommerso. Un'estensione di questo concordato mi vedrebbe contrario. Nessun condono fiscale, mai. Ho cambiato idea.